Informazioni sugli eventi. A San Giovanni vengono organizzati numerosi eventi a cura del comune e dell'associazionismo locale. Citiamo in particolare la Notte delle streghe, giugno tra solstizio e Notte di San Giovanni, l'antica fiera di Santa Lucia, 13 dicembre, il Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura, quarta domenica di settembre, il Carnevale, il Vecchio e l'Antico, mercatino di antiquariato ogni quarta domenica del mese, eccetto luglio e agosto. Attiva inoltre la stagione teatrale del Teatro Massari ed un'interessante stagione musicale tra chiese e sale comunali. Per ulteriori informazioni è possibile recarsi all'Ufficio Informazioni in Piazza Silvagni. Grazie a tutti.